salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovissimo video di the sims 4 come vi avevo accennato ci troviamo a dover ricominciare la nostra carriera sta arrivando lui si eccolo ok ricominciamo quella di attrice ok medico poi una volta che sono arrivata al livello massimo magari potrei decidere di che ne so fare la detective ipotesi talenti appropriati reclute perfetto ciccio torniamo a lavorare insieme sei contento aspetta che mi cerco un'audizione cambiamo l'ultima cittadina del west non mi ricordo che livello ho di chitarra 4 ok ciao ma se io e te io e te no già se ne va vabbè ragazzi già se n'è andato vabbè quando ce l'ho il sabato domani ok livello 3 di alta cucina perfetto no vabbè io stavo chiedendo a lui un appuntamento e lui l'ha chiesta a me ok non so se sono mai stata in questo negozio ragazzi probabilmente no quindi sono molto molto curiosa dove mi hai portato tesoro come faccio non so se sono mai Oh, un protese. non è buon segno eh ragazzi ok ragazzi ci potrebbe essere un problema che sia davvero lui la mia anima gemella come no? no vabbè ragazzi non me ne sta dicendo bene una abilità di chitarra inizio domenica quindi inizio domani io una cosa non ho capito ragazzi perché con lui mi dice amore duraturo e vado a vedere con lui non mi dice assolutamente niente mi dice migliori amici non lo so non mi sconguacchia la cosa ragazzi vabbè cercheremo di capirlo non mi sconguacchia la cosa non mi sconguacchia la cosa adesso è il primo tienes il primo ma non lo so se lo è ancora è un faro splendente eh? gli amici saranno più indulgenti se le capiterà festa di beneficenza ok ho appreso che è single quindi mi fa piacere e se pianifico un evento sociale? visto che comincio a lavorare domani pianifichiamo un evento sociale ragazzi io sono la padrona di casa se io li invito tutti che succede? perché lui non c'è? va bene non mi faccio domande ragazzi no il comico non ci serve qui è la mia residenza certo raccogliamo le domandazioni ok Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Scusate Non c'ò ragaz Vediamo un po', eh, sono diventata flirtante, e questa cosa mi preoccupa, medaglia ricevuta per la festa di beneficenza, fantastico! Quando iniziamo a lavorare? Domenica alle 12, vabbè lui c'ha le chiavi. Ah, punto. Cioè non mi sembra che lui l'abbia, cioè ragazzi, mo ditemi che sono io, però non mi sembra che lui l'abbia presa così male, insomma. Ok. Siamo semplici amici, perfetto. E io ti chiedo anche di andare via a questo punto. A che ora devo lavorare? Alle 12. A questo punto io chiamo lui. Mattia. Ciao. Ma lo vedremo nel prossimo episodio, ragazzi, come andrà a finire con Mattia. Io vi ringrazio per averlo seguito. Commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ogni picbola